In questo video ti mostrerò un nuovo modo di fare le divisioni, che è utile specialmente per i numeri grandi. Poi penseremo un po' al perché funziona questo metodo. Allora, proviamo a fare 96 diviso 4 e lo scriverò in un modo un po' diverso, perché scriverò 96 e ci aggiungo questo simbolo strano qui, questa cosa che copre il 96. Tu vedilo semplicemente come 96 diviso 4, ma io ti mostro tra un attimo perché lo scriviamo così. Questo è un modo molto utile per fare la divisione. La prima cosa che faremo è dire quante volte il 4 sta nel 9? Beh, sappiamo che 4 per 2 è 8 e che 4 per 3 è 12, quindi 3 sarebbe troppo perché supereremo il 9. Ehi, vogliamo restare sotto il 9, ma senza avere troppo resto, vogliamo il numero più grande possibile che ci porti al 9, senza superare il 9. Allora diremo che ci sta due volte. Il 4 sta nel 9 due volte. E poi diciamo, quanto fa 2 per 4? Fa 8. E quindi facciamo la sottrazione, sottraiamo 8 dal 9 e otteniamo 1. Ora abbassiamo la prossima cifra, il 6. Poi ci chiediamo, quante volte sta il 4 nel 16? In questo caso sappiamo che il 4 sta nel 16 esattamente 4 volte, perché 4 per 4 fa 16. Allora diciamo che il 4 sta nel 16 4 volte. Poi moltiplichiamo 4 per 4, che è 16, e sottraiamo 16 meno 16, non c'è nessun resto. Ed ecco la nostra risposta. So che sembra quasi magia, ma tra un attimo penseremo al perché questa tecnica funziona. Abbiamo ottenuto che 96 diviso 4 è uguale a... Beh, aspetta, voglio farlo un altro colore. Eccolo qui. È uguale a 24. Ora vorrei che tu mettessi in pausa il video e che pensassi al perché questa tecnica funziona. Come mai per magia abbiamo ottenuto la risposta giusta? Puoi fare la prova. Moltiplica 4 per 24 e otterrai 96. Suppongo che tu ci abbia pensato un po'. La cosa importante, come sempre, è tenere traccia del valore posizionale che ti dice cosa sta succedendo mentre facciamo questo procedimento. Allora, quando abbiamo guardato il 9 qui, il 9 è nel posto delle decine. Quindi sono 9 decine, rappresenta 90. Quindi stiamo dicendo quante volte il 4 sta nel 90? Se pensiamo ai multipli di 10? Beh, ci sta 20 volte. 4 per 20, infatti, fa 80. E poi diciamo che 4 per 20 è 80, ma ci restano ancora 16. Fai 96 meno 80, hai ancora 16 e lo puoi dividere per 4. Il 4 sta nel 16 4 volte. Perciò vuol dire che abbiamo visto che possiamo starci 20 volte, ma questo non ci porta fino a 96. Dobbiamo aggiungere altre 4 volte. Spero che questo sia stato utile. Spero che questo sia stato utile.